Lucia di Lannermur, quando rapito in estasi, eseguito dalla signorina Tannito Resella. Lannermur, quando rapito in estasi, eseguito dalla signorina Tannito Resella. Lannermur, quando rapito in estasi, eseguito dalla signorina Tannito Resella. Lannermur, quando rapito in estasi, eseguito dalla signorina Tannito Resella. Lannermur, quando rapito in estasi, eseguito dalla signorina Tannito Resella. Lannermur, quando rapito in estasi, eseguito dalla signorina Tannito Resella. Lannermur, quando rapito in estasi, eseguito dalla signorina Tannito Resella. Lannermur, quando rapito in estasi, eseguito dalla signorina Tannito Resella. Lannermur, quando rapito in estasi, eseguito dalla signorina Tannito Resella. Lannermur, quando rapito in estasi, eseguito dalla signorina Tannito Resella. Lannermur, quando rapito in estasi, eseguito dalla signorina Tannito Resella. Lannermur, quando rapito in estasi, eseguito dalla signorina Tannito Resella.